Ciao ragazzi, buonasera. Un piccolo aggiornamento. Ho scaricato questa app che è CANJE e ho visto che ha funzionato la chiave OBD, la porta OBD. Ora la inseriamo nell'apposita porta e proviamo ad avviare l'app. Vi faccio vedere che valori mostra. Ora si sta collegando, vedete le spie. Ora vediamo un po' cosa tutto mostra. Non ho trovato le celle, le singole celle delle batterie. Allora entriamo su batteria e da state of health, cioè lo stato di salute della batteria al 92%. Lo stato di carica, ho finito di ricaricarla ora, è al 96,92%. Il SOC reale invece è al 94%. Altri parametri. Giro il telefono così si vedono più estesi. Proviamo a tornare indietro e vediamo un po' anche le altre cose. Non credo che questo segni qualcosa perché ora la macchina è ferma. dovrebbe dare i consumi istantanei. Ma non ce n'è. La carica ora è allo 0 kW perché l'ho staccata adesso. Non ho trovato quindi le singole celle. Altre cose. Questo non segna niente perché l'auto è ferma. avg speed non so cosa sia. E niente, per il momento non trovo altri dati. Quello che mi interessava però era vedere lo stato di salute della batteria di questa macchina. È al 92%, quindi penso che sia ottimo per le mie esigenze. Vediamo un po' come procederà. Va monitorata lo stato della batteria. quindi ricordo che ho acquistato questo dispositivo. Sono riuscito a farlo funzionare non con la app che c'era nel suo libretto ed è questa. Ma con questo CAN ZE. Questo tipo di applicazione. Ne ho provato diverse. Questa è stata l'unica che mi ha dato questo valore del SOH della batteria. Per me va bene così. Quindi non restituirò questa chiavetta, diciamo, questo dispositivo. Buona serata a tutti. Iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.